Mi chiamo Michele Miori e volevo dare la testimonianza di lavori di riqualificazione energetica esibiti per la mia abitazione. Con la mia famiglia, nel 2010, abbiamo deciso di installare un impianto fotovoltaico, però ci siamo accorti che la casa necessitava di un'importante ristrutturazione. Abbiamo conosciuto l'architetto Laura Coppo, che con professionalità ci ha seguito nelle scelte di materiali e ha coordinato tutte le varie fasi di lavori. I lavori eseguiti sono stati isolamento e coibentazione del tetto, installazione di impianto fotovoltaico, capotto esterno, sostituzione dei serramenti coibentati in PDC. Fin dal primo inverno abbiamo avuto un notevole risparmio della linea, perché usiamo la stufa, e della bolletta del metano per il riscaldamento. Le muffe prima presenti in casa si sono asciugate e non si sono più formate. D'estate l'ambiente è più fresco e quindi abbiamo avuto un notevole risparmio nella climatizzazione. Per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico, le bollette dell'energia elettrica sono al minimo. Siamo contenti di i lavori eseguiti per il benessere della famiglia, il risanamento della casa e il risparmio energetico. Grazie. Grazie.